Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi delle anticipazioni di uomini e donne, che promettono momenti davvero intensi e ricchi di emozioni. Nella puntata di oggi, Daniele sarà al centro dell'attenzione, dopo aver eliminato Valeri e aver deciso di concentrarsi su Gaia e Marika per fare una scelta definitiva. Daniele ha baciato Marika, ma non Gaia, spiegando di aver riservato un trattamento diverso alla corteggiatrice mamma. Il feeling tra Daniele e entrambe le ragazze sta crescendo, ma in studio si aprirà una discussione a causa di una convinzione di Gaia, che non si sente corrisposta. Daniele proverà a farle cambiare idea, ma la tensione sarà alta. Ma le sorprese non finiscono qui. Tina Cipollari è convinta che la segnalazione su Mario Cusitore sia vera, nonostante l'alibi fornito dal barbiere. Tina continuerà a indagare sulla ragazza vista con Mario, con l'aiuto di Gianni Sperti, per far aprire gli occhi a Ida Platano. Insomma, una puntata davvero ricca di colpi di scena e situazioni avvincenti. Non vedo l'ora di scoprire come andrà a finire. Che ne pensate di queste anticipazioni? Fatemi sapere nei commenti. Alla prossima con altre news su uomini e donne. Stay tuned.